In cui ce la doiamo la soledità di Cristo Re per l'universo, doiamo assoluto che tiene perdona al Signore di tutti i nostri peccati e i nostri mancanzi. La possibilità di riscoprire meglio, il senso dei testi originali, non è qui il momento di entrare nei dettagli, riguarderanno in gloria, anche nel resto l'avvento non viene proclamato dall'Assemblea. Il Padre nostro, per cui cercheremo di visualizzare sullo schermo per abituarci di queste due piccole modifiche che intervengono nella traduzione italiana verso la fine del Padre nostro. E alcune altre modifiche. Abbiamo preparato un piccolo sussidio per le catechiste. Forse è possibile condividerlo sul gruppo Facebook della parrocchia. Qualcuno più esperto di me potrà fare questa cosa tecnica. La premia del Padre nostro, invece di dire non inducci in tentasi, non abbandonarci, ma vada in tentazione. E poi, gloria, pace agli uomini di buona volontà, la nuova condizione, pace agli uomini amati dal Signore. E poi ci sono altre cose che pian piano siete i segnelsi. Il Signore essi.. Ripetica da Nicolette, Valle, Figlio e Spirito Santo. La Messe finita. Andate in pace. E poi prendiamo la pranzia al Dio. Questo è importante. Come si no da, come si no da scatta, giù qui da. Non c'è nessuna, nessuna nessuna, nessuna, nessuna. Ora va, c'è un po' di problema, eh? Ok Mamma mia, predo Queste due Non è chiaro, non capisco perché Ho cercato, le notizie sono vaghe Perché fanno la versione in tedesco Forse perché, ripeto, perché in Italia tutti parlano tedesco, no? Non è un po' di più Alla prossima Alla prossima